Il Parco San Bartolo ha un nuovo presidente. Si tratta del settantenne Silvano Leiva, broker assicurativo con radici ben piantate nella terra, visto che da un anno e mezzo ha aperto l'azienda agricola di Leiva che gestisce con il figlio Davide alle porte del parco sulle colline di Roncaglia. Leiva succede alla presidenza di Stefano Mariani e la sua nomina arriva al culmine di una riforma della legge sui parchi che ha ampliato i consiglieri direttivi nominati dalla Regione Marche, non senza polemiche, attraverso l'emendamento approvato a fine dicembre dalla Regione con primo firmatario il consigliere pesarese Nicola Baiocchi. Legge che ha portato in settimana la nomina del consiglio direttivo con tre esponenti direttamente nominati dalla Giunta Acquaroli, ovvero Gaetano Buttafarro, Santino Ciuffolini e Gianluigi Garattoni. Sono stati nominati in giunta i tre componenti del comitato direttivo del parco nominati dalla Regione, però sono autorevoli che hanno sicuramente una capacità amministrativa e competenza nell'ambito dell'ambiente, del turismo, di tutto ciò che ruota attorno al mondo del parco San Bartolo, un parco fondamentale per il nostro comune, che sappiamo che chiude il comune di Pesaro, il comune di Gabice, un parco che deve essere rappresentato nel miglior modo possibile. Sono stati nominati anche i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e degli agricoltori, nonché i rappresentanti del comune di Pesaro e del comune di Gabice. I consiglieri della Regione sono stati determinanti nel voto verso leva che ha trovato anche l'appoggio di associazioni agricole ambientaliste, oltre che del comune di Gabice Mare. Gabice che si prende la carica del vicepresidente con la nomina di Matteo Sanchioni. Le cariche ora saranno ratificate dal pronunciamento ufficiale dello stesso presidente Acquaroli.